Ragazzi, ci siamo, inizia una nuova playlist ed è quella tutta incentrata sull'intelligenza artificiale. Andiamo quindi subito a vedere il primo programma che vi presento oggi e stiamo parlando di Ideogram 2.0, un programma che ci farà creare delle fotografie incredibili che potranno essere veramente fantastiche. Intanto andiamo a vedere qui la schermata di Ideogram, vi lascio il link chiaramente qui sotto in descrizione, e andando un po' a vedere tutto quello che può fare, vedete, può dare delle immagini realistiche, animate, eccetera, eccetera. Ok, quindi si può fare veramente tanto. Guardate questa immagine come è stata creata, ma la particolarità è che riusciamo anche a scrivere qualcosa proprio sulla nostra immagine. Guardate quello che c'è scritto qui e lo andremo magari a provare, ve lo farò assolutamente vedere. Quindi lo spazio è solamente la vostra, come dire, la vostra fantasia, il limite è solamente la vostra fantasia, ma come si fa ad usare Ideogram in maniera gratuita? Ovviamente ci sono dei piccoli limiti, però è possibile usarlo gratuitamente. Quindi andiamo sul link qui sotto in descrizione, che non è un link affiliato, non ho assolutamente nessun interesse. Try Ideogram e a questo punto io sono già loggato all'interno del mio account perché appunto ho fatto il mio account creandomi un account normalmente. Quindi vedete voi, quando andate su Try Ideogram potete farlo con la vostra Gmail in tutta tranquillità. Vi faccio vedere, quindi se vado a vedere nelle notifiche, mi dice appunto Welcome to Ideogram, eccetera, eccetera. Queste sono un po' le immagini che sono state create, guardate ad esempio questa ragazzi, quanto è molto realistica, le mani sono fatte veramente molto bene. E qui nella parte di destra possiamo vedere chi ha creato questa fotografia, lo possiamo seguire oppure no. Possiamo andare a fare un remix proprio di questa fotografia e proviamo assieme, vediamo che cosa esce. Benissimo, esce praticamente il prompt che ha utilizzato il nostro utente. Possiamo andare a cambiare il modello, ma vi consiglio di no perché quello giusto è il 2.0. E se ovviamente pagate qualcosa per avere il vostro abbonamento potete sceglierlo anche di tenerlo privato, cosa che non potete fare se lo avete gratuito. Ok, quindi potete andare a mettere il magic prompt su on oppure off, in questo caso potete mettere on e vi aiuterà con il prompt, ma quello che mi piace è che potete scegliere una palette di colori. Quindi andiamo a scegliere una palette di colori, magari ultramarina, vedete, gli andiamo a dare quindi l'ok e anche queste opzioni qui sono ovviamente a pagamento. Si possono andare a mettere prompt negativi, potete scegliere il seed per andare ad effettuare delle modifiche ovviamente di fino e anche qui la qualità la potete tenere veloce, di default o quality. Comunque andiamo a vedere un po' come viene realizzata. Qui potete andare a scegliere il peso appunto dell'immagine, ma lasciamolo così per adesso. Quindi andiamo a vedere però su General che cosa ci esce. Queste sono le varie opzioni, quindi possiamo avere la 3D anime e realistica. Proviamo anime, quindi andiamo a fare remix. Utilizzo i miei due crediti, devo aspettare qui qualche secondo per andarne a fare ovviamente un altro e qui sta completando l'immagine. Vi ricordo che abbiamo messo anime, ok? Quindi andiamo a vedere quindi che cosa mi ha creato. Vedete, abbiamo avuto un prompt abbastanza diverso, ovviamente, perché ovviamente gli abbiamo dato il nostro prompt come anime. Ok, questa è una via di mezzo tra anime e re e no, però vedete come ha tenuto la nostra palette di colori che gli abbiamo dato. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere quindi nel mio profilo quello che avevo un po' creato. veramente pochissima roba, però guardate ragazzi, quello che vi dicevo prima, possiamo andare a far scrivere qualcosa in qualche posto proprio alla nostra intelligenza artificiale. Io sto per andare in Islanda con il mio primo viaggio fotografico con il team Drone Italia, una cosa organizzata tutta da me dal 22 al 29 settembre. Non vedo assolutamente l'ora di partire. Cosa avevo detto alla intelligenza artificiale? Io ho scritto, è foto of a man holding a checkboard with the text Drone Italia Road to Iceland. Vedete, quindi io gli ho detto una foto di un uomo che ha tra le mani una lavagna con il testo Drone Italia Road to Iceland. Proviamo invece a farne un'altra. Quindi mi vado a copiare il prompt, lo posso fare da qui. Andiamo a questo punto a inserire il nostro prompt, ma credo che in questo momento ha fatto un errore perché non ho copiato in realtà il prompt. Ah, avevo copiato la palette colori, scusate. Vedete, qui si va a copiare il prompt. A questo punto sulla barra qui sopra la andiamo a mettere, però in questo caso non voglio scrivergli questo, ma iscriviti al canale. E andiamo anche a cambiare di là palette di colori. In questo caso gliene voglio dare una un po' più calda. Ok, cosa gli possiamo andare? The man is wearing spring outfit. Lasciamolo così, vediamo un po' cosa ci tiene. Is standing in front of the Skogafoss waterfall in Iceland. Ok, proviamolo così, andiamo a fare appunto il nostro remix. Aspettiamo appunto che il tutto viene creato. Vedete qui in basso a destra viene fuori la nostra immagine. E mentre fa il tutto, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto di lasciare un like assolutamente qui sotto. Vi faccio vedere che quello che ha creato è stile anime, perché chiaramente gliel'avevamo detto noi. Quindi andiamolo a rifare, lo andiamo a mettere in stile realistico, cosa che avevo tralasciato prima, e andiamo a dargli di nuovo il remix. Vediamo che cosa c'è. Però vedete, iscriviti... Ok, c'è una Team Plus. No, non è un mio errore. Però, insomma, vediamo anche nelle altre. Iscriviti al canale. Qui l'ha fatta assolutamente bene. E andiamo a vedere le nuove che dovrebbe aver creato. Ci siamo un po' così. Vedete, iscriviti al canale. Lo ha fatto a volte bene, a volte male. Iscriviti al canale, eccetera, eccetera. Quindi, andiamo a questo punto di nuovo qui e proviamo a fare un remix, magari, di questo prompt. Ok, andiamo a dargli il copy. E andiamo a fare l'invio. Lasciamo tutto in automatico, perché voglio vedere come si comporta, lasciandogli però, appunto, questa palette e cambiando però quello che è il formato. Lo facciamo, a questo punto, in tre mezzi. Ok? A questo punto potete scegliere, come vedete, anche come farlo. Generate. E andiamo a vedere, quindi, come viene fuori il nostro prompt. Attendiamo un attimo e, ragazzi, questo è veramente potentissimo. Come strumento andiamo, appunto, a vedere, appena sarà finito, cosa ci viene dato. Sta andando a generare la nostra immagine. Lo fa in maniera anche abbastanza veloce. E andiamo a vedere un po' che cosa ci ha dato. Ecco qua, ragazzi. Direi assolutamente fantastico. Guardate che dettaglio dell'immagine. Io direi che questo è veramente un generatore di immagini da tenere in considerazione. Andiamo a vedere quali sono i piani che possiamo, appunto, prendere. Abbiamo un piano free, che è quello che, appunto, stiamo utilizzando. Vedete, non si deve pagare nulla. Abbiamo 10 crediti al giorno, che ci consentono di fare, ragazzi, 40 immagini. 40 immagini non sono assolutamente poche. Lo potete fare ogni giorno, quindi 40 immagini. Ovviamente ci sono dei piani che sono Basic, Plus e Pro, che hanno, chiaramente, delle peculiarità per il quale voi potete magari anche andare a fare delle cose in più. Potete andare a fare l'app scale, eccetera, eccetera. Quindi io direi che, però, se vogliamo divertirci un po', il piano gratuito è assolutamente quello migliore da utilizzare. Quindi, andiamo di nuovo qui, andiamo a scegliere un, di nuovo qui, realistico, gli andiamo a scrivere Magic Prompt Off, gli andiamo a mettere questa volta un 9 sedicesimi. Vedete, io voglio che la mia immagine sia 9 sedicesimi, ma vedete, la potete scegliere anche in questo modo, oppure qui molto semplice. Quindi io voglio, anzi, voglio un 4 quinti per andare a mettere una foto su Instagram. Quindi voglio creare una foto per Instagram. A questo punto, come palette di colori, se voglio, gliene do una in particolare. Gli diamo Jungle, ok? E andiamo a vedere come si comporta con i prompt in italiano. Quindi andiamo a mettere un orso, anzi, un cavallo bianco con sopra una principessa bionda con occhi, occhi azzurri. La principessa ha in mano, in mano, una spada luminosa. In cavallo bianco, gli diciamo, nella foresta amazzonica. E andiamo a questo punto, dargli il realistico e vedere come si comporta il Generate. Stiamo aspettando, vedete comunque che è abbastanza veloce la generazione dell'immagine. Quindi andiamo a vedere quando avrà finito, come viene un pochino il tutto. Ma comunque, guardate, ragazzi, potete creare veramente di tutto. Quindi potete anche prendere spunto proprio da tutti questi disegni. Ed eccola qua, ragazzi. Questa è la nostra principessa. Il cavallo molto, molto, molto bene. Devo dire veramente coerente un po' con quello che io ho detto. E guardate il problema che abbiamo un po'. Sicuramente è la faccia della principessa. Qui qualcosina da migliorare c'è. Ma diciamo che vogliamo scaricarci questa. Quello che possiamo fare, vediamo. Sul cellulare sono sicuro di aver trovato la parte che va appunto a farcela scaricare. Vediamo forse qui. Possiamo andare. Eccola qui. Download. Vedete, lo scarichiamo in JPEG al 70%. Cosa che per i social, ragazzi, va assolutamente più che bene. Quindi questo è quello che noi appunto possiamo prendere. Un'altra cosa che si può fare è quello di andare a cliccare i tre pallini e andare su Edit. Nel caso voi andate a pagare il profilo e quindi andare anche ancora a modificare alcune parti. Cosa succede se io aggiungo testo? Possiamo appunto mettere qualcosa in più. Oppure cambiarlo. Possiamo mettere che non c'è nessuna principessa bionda. A questo punto un cavallo bianco nella foresta amazzonica. E a questo punto io avevo già fatto delle generazioni. Non ne posso fare delle altre. Quindi andate un po' a vedere voi quello che potete fare con questo programma. Ma andate sicuramente a prendervi un po' quello che c'è qui come esempio. Per la cosa più semplice. Ad esempio vi piace un'immagine come questa. Andate a vedere il suo prompt. Tra l'altro ha solamente scritto Taylor Swift Wearing Warpunt. Quello che vado a fare è copiarlo se lo volete. Oppure andate a scegliervi anche un'altra foto. Giusto per vedere cosa ha creato. A questo punto incolla e andate assolutamente a dare la vostra idea in pasto a Ideogram 2.0. assolutamente non male. Quindi ragazzi iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche provate questo programma postate le vostre fotografie su Instagram fatemi vedere le vostre creazioni e taggatemi come Vincetex. Se non mi seguite su Instagram andatelo a fare assolutamente. Io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine di questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!